Calpestare la cultura di un altro paese per promuovere il proprio business Sei inaccettabile, non hai rispetto per il kimono Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese Questo era un video che non avevo in programma perché come sapete io faccio uscire i video Alle 11 il lunedì sul canale in inglese e alle 11 il venerdì su questo canale Però oggi volevo parlare di una situazione alquanto controversa Perché non so se avete letto su twitter tutto il casino che è successo con Kim Kardashian E la sua nuova marca di intimo per modellare il corpo chiamata Kimono Intimate Che ha fatto incazzare di brutto i giapponesi Uno youtuber che mi piace giapponese ha fatto il video e ha detto ma quasi quasi lo faccio anch'io Vi lascio in descrizione anche il suo video che se lo vuole vedere in inglese Ma guardatevi il mio se volete vedervi questo video in italiano Prima di andare a leggere tutto quello che è successo lasciate un mi piace Così aiuterete questo canale a crescere Kim Kardashian ha fatto la sua nuova marca di intimo per modellare il corpo chiamata Kimono Intimate E deve aver provato a mettere il trademark sulla parola Kimono Come sapete i giapponesi non hanno alcun problema se gli stranieri si mettono il Kimono A patto che lo facciano con rispetto In passato se vi ricordate vi avevo fatto anche un video in cui c'è la mamma di questa bambina Che era stata chiamata razzista perché la figlia ha voluto fare questo party in Kimono E sono state un sacco di controversie Però devo dire che tutte queste controversie partono quasi sempre da stranieri che sono amanti della cultura giapponese Mentre la maggior parte dei giapponesi non dà particolarmente fastidio questa cosa Ma il comportamento di Kim Kardashian è stato ben diverso Perché il Kimono fa parte della cultura giapponese È un vestito che c'è da centinaia d'anni Un vestito tradizionale E i giapponesi come vi ho detto prima non dà fastidio se gli stranieri indossano un Kimono Ma richiedere la proprietà della parola Kimono è una cosa completamente diversa Kim Kardashian in Giappone a dirvi la verità non è così famosa Quindi non è che la gente ha prestato particolare attenzione a questa notizia Ma le persone che ne sono venute a conoscenza si sono scatenate su Twitter Adesso andiamo a leggere alcuni di questi tweet Sarei ok con gli stranieri che indossano il Kimono Pure quelli che fanno la loro personale versione Sarebbe ok anche se la loro versione fosse completamente diversa da quella giapponese Ma questa cosa del Kimono di Kim è oltragiosa Mi fa piangere Quindi capite che è una cosa abbastanza seria Anche gli amici di Akaso erano molto incazzati devo dire Leggiavo un altro Sono turbato e molto triste Non ha cambiato il nome questo riferito a Kim E non si è nemmeno interessata al fatto che molte persone le hanno chiesto di cambiare il nome nei commenti Non la perdonerò se continuo ad ignorare In seguito le persone hanno anche iniziato a usare questa hashtag Kimono per protestare Leggiamo qualche altro commento Ho creato questa hashtag Kimono condividendo foto del vero Kimono su Twitter E con questa hashtag varie persone hanno iniziato a postare delle foto di loro in Kimono Però questa volta con un vero Kimono Scrivendo commenti di questo tipo Non rubare la nostra cultura Per favore non derubarci della nostra cultura Il Kimono è parte della nostra cultura Non monopolizzare una cultura La prima cosa che compare su Instagram quando cerchi Kimono è già questa Non mi distiace Kim Kardashian e penso che il suo intimo sia bellissimo Ma non posso che provare rabbia per il suo comportamento Secondo il quale è ok calpestare la cultura di un altro paese per promuovere il proprio business Anche se Riena Grande si fa un tatuaggio con scritto grigliata in giapponese La gente penserebbe Ama la nostra cultura È carino Però Kim sei inaccettabile Non hai rispetto per il Kimono Non penso si tratti di appropriazione culturale quando gli stranieri si divertono a indossare il Kimono Ma non voglio che Kim trademark qualcosa completamente diverso da un Kimono Altre persone hanno avuto anche delle reazioni diverse Le Kardashian hanno sempre fatto i soldi Grazie alle controversie Non penso che tutto ciò le danneggerà E poi è arrivato anche questo commento che Allora devo dire che voi probabilmente non capite il giapponese Molti di voi Quindi è un po' difficile da farvi arrivare il messaggio Però si vede proprio che c'è quella venatura di Gli stranieri sono soliti a incazzarsi per queste cose Fare polemiche, fare ciocciara Mentre noi giapponesi siamo superiori Quindi io questo tweet ve lo metto Però devo dire che mi ha fatto un po' tristezza leggerlo Perché da straniero capisco che c'è una venatura di razzismo in questo tweet Smettiamola di dire cose che gli occidentali dicono Dovremmo essere più tolleranti nei loro confronti Puoi semplicemente dire che una cosa è strana e fine In ogni caso il 99% dei commenti riguardo a questa faccenda dei giapponesi Sono stati tutti a sfavore di Kim Kardashian Quindi trovare questi due tweet che ne parlassero vagamente bene Oddio che poi proprio bene non ne parlano Però più che altro ti dicono focalizzati su altre cose È stata già un'impresa per nulla semplice Io sono dell'idea che Kim Kardashian in realtà già sapeva Quando è andata a cercare di mettere il trademark sulla parola kimono Che tutto ciò avrebbe generato controversia Tuttavia per un personaggio come Kim Probabilmente controversia uguale più profitto e più pubblicità per il suo marchio È un po' triste pensare che Kim abbia sfruttato praticamente l'incazzamento dei giapponesi Per fare il proprio interesse Ma allo stesso tempo un personaggio come Kim Kardashian è stato creato grazie alla gente che la segue Se nessuno la seguisse non sarebbe più famosa Come lei che sfrutta questi scandali Ci abbiamo anche molti esempi in Italia Vedi anche la situazione di Mark Artagirone e Pamela Prati Nulla di nuovo Non lo so ragazzi A me tutta questa storia mi ha fatto un po' arrabbiare Perché sinceramente Cioè non riesco a fare un paragone analogo con l'Italia Abbiamo dei vestiti tipici però non siamo così legati e non li usiamo così tanto Forse l'unico paragone che mi è venuto da poter fare è se che ne so in un'altra nazione Qualcuno provasse a fare il trademark Che ne so la parola papa Però magari riferito a qualcosa che non c'entra niente con un papa Come una spogliarellista capite So che questo non è proprio un esempio perfetto di quello che vorrei trasmettervi Ma spero che dopo aver sentito tutto questo video vi siete fatti la vostra idea E capite perché i giapponesi sono incazzati con Kim Personalmente anche io trovo che sia un comportamento veramente chifoso Non so voi e sono curiosissimo di sentire la vostra opinione Grazie sempre per seguire questi video un po' chiaccherici In cui parliamo di queste cose un po' di cultura e di notizie giapponesi Mi fa sempre tanto piacere sapere che c'è qualcuno dall'altra parte dello schermo Che aspetta questi video e interagisce con me Cerco sempre di rispondervi a tutti i commenti Mi fa sempre un sacco piacere leggerli Grazie davvero di cuore Volevo anche ringraziarvi tantissimo per esservi visto il mio video Su quella campagna per combattere l'ictus Che ho fatto uscire venerdì scorso Ha significato tantissimo per me E magari quel video servirà a qualcuno Spero che quel messaggio vi sia arrivato E avete memorizzato tutti i sintomi per riconoscere un ictus Tocca ferro ma se per caso succedesse Adesso sapreste come comportarvi di conseguenza In ogni caso oggi come vi ho detto è lunedì E quindi oggi è uscito un altro video sul canale inglese Ve lo lascio qui Quindi andatevi a vedere anche il video che è uscito sull'altro canale Che sarà un video in cui cucinerò la tempura Con il mio amico Mitsu in un ristorante di Varese Che è buonissimo Per questo canale ho deciso anche di intervistare la proprietaria Quindi vi lascio adesso un pezzettino di intervista E poi a fine video non dimenticatevi di cliccare sul video E andarvi a vedere il video di noi che facciamo tempura Iscrivetevi anche all'altro canale Che così aumenteremo anche lì Il prossimo video che uscirà su questo canale Uscirà venerdì alle 11 Quindi mettetevi la sveglia che vi aspetto Un abbraccione Ciao Ragazzi oggi siamo a Taiko Ramen E ci abbiamo qui proprio Taiko Piacere Piacere sono Taiko Ho aperto il nostro ristorante tre mesi fa Tre mesi fa a Varese Come mai proprio a Varese? Noi abbiamo un negozio di tè a Varese Abbiamo tanti tipi di tè giapponesi Poi abbiamo deciso di aprire il ristorante E fare conoscere i nostri piatti tipici giapponesi Noi apriamo buonissimo ramen Ramen è molto popolare in Giappone Come mai hai deciso di venire in Italia? Io ho studiato architettura e design in Giappone Ok Poi mi ha affascinato tanto l'Italia perché è un paese di arte Cosa ti manca di più del Giappone? Cibo Cibo Beh ma lo cucini qua no? Tempura Tempura Oggi mi ha promesso Mitsu che mi cucinerà la tempura Ci possiamo fidare di lui? Il nostro bravissimo cocco è giapponese Io ho cercato tutta l'Italia per trovare lui così bravo Lui fa ramen, anche i pasti giapponesi, i lavori e anche tempura Anche tu cucini? Sì 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 con la cucina sì Ok vabbè grazie allora adesso proveremo a fare questo video in cui cucineremo la tempura e speriamo che ci diventerà benissimo Grazie mille Quindi se siete avarese mi raccomando passate da taiko ramen a provarlo o nella sala da tempo Vi aspettiamo Ciao Ciao Ok vuoi salutare? Ciao 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 Grazie a tutti.